Allora, Villa Rosa, chi altro? Ci siamo? Sì, dichiaro che usa la votazione. Favorevoli 305, contrari 1, la Camera approva. Siamo all'articolo 2, se nessuno chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione. Lagina, Garavini. Allora, come siamo messi? Bene, tutti hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 302, contrari 1, la Camera approva. Articolo 3, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Piepoli, Vezzali, D'Agostino, Bolognesi. Allora, ecco, li hanno votato. Chi altro c'è che non ha votato? Carinelli. Costantino. Coppola. Costantino. Ecco, ha votato. Costantino ancora no. Ecco, l'ha votata anche lei. Bene, allora ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 311, contrari 1, la Camera approva. Articolo 4, nessuno chiede di intervenire a dichiarazione. La votazione è aperta. Garavini. Piepoli. Piepoli. Piepoli ha votato, sì. Tutti hanno votato. Sorial. No, Sorial. Ecco, ha votato. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 311, contrari 1, la Camera approva. Allora passiamo agli ordini del giorno. Grazie.